Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Loredana Lecciso ed Albano Carrisi da più di vent'anni vivono la loro storia d'amore. Il loro luogo incantato si chiama Cellino San Marco, circondati dalle bellezze naturali della terra pugliese. Una cena però mette in serio pericolo la loro storia. Perché, cosa è accaduto? Oltre vent'anni di vita di coppia e due figli che testimoniano la nascita di una splendida famiglia. Lei che, grazie ad una pazienza paragonabile a quella dell'America Penelope, è riuscita a convincere tutti, lui per primo, che vi poteva essere un dopo Romina Power e che sarebbe potuto essere anche bellissimo. E così è stato. E, così che Loredana Lecciso ed Albano Carrisi hanno creato una loro famiglia, pronta in ogni momento ad allargarsi per accogliere anche quella precedente, ma con una sua precisa identità. Ma tutto quello che è stato creato, non senza fatica, in oltre vent'anni, ha rischiato seriamente la fine per via di un tradimento avvenuto proprio lì, a Cellino San Marco. Chi ha tradito chi, Loredana Lecciso non lo doveva fare, quanti drammi familiari sono nati in circostante assolutamente imprevedibili. Quante volte abbiamo ascoltato frasi quali, non se lo aspettava nessuno, oppure, chi avrebbe mai immaginato una cosa del genere, ed anche, era una coppia assolutamente felice. Ed invece, è, accaduto quell'imprevisto che fa male soltanto a raccontarlo. Una cena in allegria e l'invito rivolto ad un ospite, un volto famoso della televisione che ha accettato immediatamente il cordiale gesto di Albano Carrisi. I piatti sono squisiti, come da tradizione della cucina pugnese ed il vino è quello prodotto dal cantante. Ma poi è accaduto qualcosa che non doveva accadere ma che però è stato immortalato da una foto. Ora nessuno potrà negare l'avvenuto tradimento, e, lui il famoso invitato. Colui che è stato invitato cordialmente a condividere l'autopasto nella tenuta Carrisi risponde al nome di Ron Moss. Sì, proprio lui lo storico, affascinante Ridge Forrester, protagonista della soppa americana, Beautiful. E quella foto che lo ritrae accanto a, Loredana Lecciso, ma in quale altra maniera si poteva concludere la splendida serata di Ron Moss a casa di Albano Carrisi se non con delle foto scattate insieme ai padroni di casa? E crediamo che Albano non sia stato assolutamente geloso della foto che ritrae la sua compagna, accanto al fascino attore americano. Una giornata bellissima passata insieme ad un amico che vedremo sovente nella tenuta Carrisi. Albano e Ron infatti hanno delle idee per il loro futuro e poi ormai l'attore americano è un pugnese adottato da quando ha acquistato una meravigliosa masseria a Fasano. Pertanto non mancheranno altre occasioni per nuovi scatti assolutamente, innocenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato l'intero video.